Storia di Iqbal, capitolo 16 Fatima, amica mia, sorella mia molto amata, come vorrei averti accanto a me in questi giorni, parlarti, piangere tra le tue braccia. Ricordi quante volte l'ho fatto in passato? E tu sempre sapevi trovare il modo di consolarmi e di proteggermi, sempre sapevi trovare le parole giuste. Potessi farlo anche questa volta. Potessimo dividere il nostro comune dolore. Potessi trovarle io questa volta le parole giuste. Lo so, non ti ho scritto per tanto tempo. Avrai pensato che mi ero dimenticata di te, che il mio affetto per te fosse svanito come la nebbia sui campi al mattino, ma non potevo, credimi, essere io a darti la notizia. Anche adesso la mia mano trema, e le lacrime, lo vedi, bagnano il foglio. Perdona la mia vigliaccheria, ma non devi venirlo a sapere da altri, chissà cosa ti direbbero. Io te lo racconterò. Appena tornato dal suo lungo viaggio, sarebbe tornato da noi per riprendere la sua lotta. Diceva che aveva preso un impegno davanti a tutte quelle persone in America e che l'avrebbe mantenuto. Lo sai come era fatto. Dicono che al villaggio tutti lo accolsero come un eroe, con grande gioia. Tutti sapevano che cosa aveva fatto e lo guardavano con ammirazione e rispetto. Tutta la comunità passò dalla sua casa per salutarlo, portargli i doni e chiedergli se fosse vero che aveva volato in aeroplano. Dicono che dopo due giorni Iqbal fosse già stufo e preferisse evitare la gente, uscire per i campi con suo padre all'alba e parlare a lungo con lui. E poi, nel pomeriggio, scorrazzare in sella a una vecchia bicicletta assieme ai suoi due cugini più piccoli o giocare all'aquilone. Ti ricordi come gli piaceva? Dicono che fosse felice e sereno e pieno di progetti. Dicono che quella domenica, il giorno di Pasqua, fosse una bella giornata, piena di sole e di luce e Iqbal prima andò nella sua chiesa e poi fece il giro delle case dei parenti che gli regalavano uova, non so perché. E che poi ci fu un grande pranzo, con canti e balli e c'era perfino la carne, pensa, e dolci di tutti i tipi, laddu, jalebi, all'arancio, barf e che Iqbal ne mangiò tanti da farsi venire il mal di pancia. Poi, mentre gli adulti parlavano tra di loro, i ragazzi si dispersero in giro a giocare e ogni tanto si sentivano le loro voci che si chiamavano e gridavano. Dicono che saranno state le tre del pomeriggio. Qualcuno giura, no, più tardi, il sole già aveva cominciato a scendere nel cielo. Quando, sulla strada all'imbocco del villaggio, comparve l'automobile, sollevando una nube di polvere. Era un'automobile grande e nera, sconosciuta, coperta di mota, e sembrava che a bordo non ci fosse nessuno e che venisse avanti da sola, macinando la ghiaia con le sue immense ruote. O perlomeno, nessuno vide chi c'era al volante. Secondo alcuni, fu proprio in quel momento che scoppiò il temporale, improvviso, e gocce grosse come monete cominciarono a picchiare la terra e il tuono fece tremare i tetti di paglia. Secondo altri, invece, fu più tardi, era già sera, dicono. L'automobile nera attraversò lentamente il villaggio e poi deviò per un viottolo che portava le risaie. L'acqua del cielo si confondeva con quella della terra. Dicono che Iqbal stesse risalendo il viottolo in piedi sui pedali della bici per vincere la resistenza della salita, con i capelli fradici negli occhi e la maglietta comperata in America che sbatteva al vento. Nessuno sa cos'è successo, Fatima, sorella mia, ma un uomo ha sussurrato di aver visto da lontano, tra l'acqua e il fumo della pioggia, che quando Iqbal passò accanto all'automobile, il vetro del finestrino si abbassò, piano piano. Poi ci furono tre vampe di fuoco, quattro, cinque, chi lo sa, e prima di aver dato l'allarme e di aver radunato gli uomini ed essere accorsi, l'automobile nera non c'era più e non c'erano tracce del suo passato, nemmeno un segno nel fango, niente. Solo l'acqua sotto il corpo di Iqbal si era tinta di rosso pallido, ma sparì subito anche quella, l'aveva portata via la pioggia. Questo è quello che ci hanno raccontato. Ma ascoltami, Fatima, sorella mia, io so che non è vero. Non sono pazza. Per settimane ho creduto di essere tornata come una volta, che non sapevo parlare, ti ricordi? Mi ero chiusa dentro. Continuavo a ripetermi. Non è vero. Sai com'è la gente? Come si immagina le cose? Come si confonde? Tutti erano convinti che fosse vero. Anche Zankan, anche sua moglie. Solo io ero convinta di no. Poi, un pomeriggio di due settimane fa, hanno bussato alla porta che dà sul nostro giardino. Qualcuno, non ricordo chi, è andato ad aprire e sulla soglia c'era un ragazzino, tutto sporco e con le caviglie segnate dalla catena. Ha raccontato che lavorava in una tessitura di tappeti e che era scappato e che gli avevano detto che noi l'avremmo aiutato a denunciare il suo padrone. E poi sai cosa ha detto? Ha detto Io non ho paura. L'ho guardato bene, Fatima. Era Iqbal, te lo giuro. Era uguale a lui. Aveva i suoi stessi occhi, la sua stessa voce. Tre giorni dopo ne è arrivato un altro e poi al mercato un bambino si è ribellato al suo padrone, uno dei mercanti più ricchi del bazar. Ho visto anche loro. Erano Iqbal. Non essere triste, Fatima, se puoi. È successo qualcosa che ha cambiato le nostre vite e ci resterà per sempre. Ho detto a Esan Khan che sarò io a studiare, ad andare all'università, diventerò avvocato, lotterò per liberare tutti gli schiavi del Pakistan e del mondo. Sai una cosa? Nemmeno io ho più paura. È la prima volta. Sorella mia, non so dove andrai. Come farò a comunicare con te se ci rivedremo ancora? Di una cosa sola, ti prego. Non dimenticare niente. Neanche il più piccolo insignificante particolare. Raccontala a qualcuno la nostra storia. Raccontala a tutti che non se ne perda il ricordo. Solo così Iqbal sarà sempre accanto a noi. Abbracciami, tua sorella Maria. Epilogo Iqbal Masih è stato assassinato il giorno di Pasqua del 1995 a Muritke, un villaggio a 30 km dalla ore, in Pakistan. Aveva circa 13 anni. Gli esecutori e i mandanti del suo omicidio non sono mai stati scoperti. e Zhang Khan ha dichiarato l'ha ucciso la mafia dei tappeti. Da allora il nome di Iqbal è diventato il simbolo della lotta per liberare decine di milioni di bambini di tutto il mondo dalla violenza e dalla schiavitù.